Anche a Taranto in corso di svolgimento eventi celebrativi dei 70 anni del movimento adulti scout cattolici italiani. Un interessante incontro di battito nella parrocchia San Francesco del Geronimo al quartiere Tamburi ha creato la giusta atmosfera. L'approfondimento sull'enciclica sociale di Papa Francesco Fratelli Tutti con la relazione di Donnino Bosci, direttore della Caritas di Taranto. Noi avevamo gli scout, la Gesci, però ci mancava il Masci perché molti di quelli che sono stati esploratori, rover, capi nel nostro gruppo a Gesci, oggi fanno parte del Masci e quindi continuano la loro esperienza di scout ed è importante. La testimonianza sul campo è l'esperienza di Donnino Damasi. Donnino, una grande occasione questa per ritrovarsi, per condividere le esperienze globali e riportarle al locale. Sì, questo invito che mi ha rivolto il Masci mi ha dato la possibilità di leggere la mia esperienza in Guatemala, nei quattro anni che sono stato in questo paese del Centro America, proprio in termini di esperienza di fraternità. L'esperienza più bella è stata quella di incontrare tanti fratelli e sorelle in una parte del mondo lontana da noi ma vicina proprio per la comune fraternità umana che unisce tutti gli uomini. Ad introdurre l'incontro Michele Friuli, Magister Taranto V. Oggi si parte, noi siamo partiti proprio dall'enciclica del Papa, fratelli tutti, in un mondo dove prevale e impera il singolarismo, ognuno per sé, nessuno. Noi diciamo che è importante riprendere a essere comunità, avere obiettivi comuni. Lei oggi è Magister del Masci, qual è il messaggio di lanciare le nuove generazioni? L'auspicio più che altro è questo, di assaporare, di voler vivere in comunità, stare con gli altri, sognare con gli altri e adoperarsi per gli altri.